Tiani Reinders ha parlato in zona mista a margine della consegna del premio Gentleman 2024 come rivelazione dell'anno nel Milan. Sulla prossima stagione, il nostro obiettivo il prossimo anno è vincere lo scudetto e dispiace non esserci riusciti quest'anno. Siamo dispiaciuti perché era il nostro obiettivo. Eravamo partiti bene, ma poi abbiamo lasciato per strada troppi punti contro squadre alla nostra portata. Sul momento più difficile, quando l'Inter ha vinto lo scudetto in casa nostra, ma non dobbiamo più pensare al passato meglio guardare al futuro. Bisogna imparare la lezione e non perdere più punti in certi incontri. Su Stefano Pioli, è un ottimo allenatore e con lui ho un grande rapporto. Per me è una persona importante, dentro e fuori dal campo. Mi ha aiutato tanto ad ambientarmi. Quest'anno all'inizio eravamo una squadra con tanti elementi nuovi e abbiamo dovuto lavorare per conoscerci meglio. La prossima stagione le cose andranno meglio perché il gruppo sarà più amalgamato e faremo risultati migliori. Sul possibile cambio in panchina, non posso dire niente sulla scelta dell'allenatore. È una decisione che compete alla società e noi calciatori dobbiamo essere concentrati solo sul campo. Sul connazionale Zirksi, è un ottimo giocatore. Non entro nel merito della scelta anche perché adesso è infortunato. È bravo e lo ha dimostrato anche quest'anno. Gli auguro di essere convocato la prossima volta.